sì 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 buonasera a tutti il terzo pezzo di random grazie questo si chiama fuori controllo ragazzi sono fuori controllo devo pagarmi pure il bollo dell'auto ma sono rimasto senza soldi senza lavoro e senza fiato per una vita ho lavorato solamente per essere raggirato e vederti semplicemente il mio conto lapidato da false sicurezza investimenti di tempo e di denaro per dei ricchi potenti ma poveri perdenti stato potere istituzioni ci costringono ad essere solo i loro automi non curandosi minimamente né delle nostre esigenze tantomeno delle nostre emozioni e allora scrivo e canto una canzone per tutte le persone che come me si sono rotte to scoccones di questa situazione sono fuori controllo dei piedi a sopra il collo sono fuori controllo perché mangio bevo fumo e ballo sono fuori controllo perché ho deciso di essere libero e bello di fare ciò che voglio guarda che sballo sono ancora proprio fuori controllo fuori controllo fuori controllo fuori controllo venite tutti senza controllo sono fuori controllo perché non sono mai stato il primo pollo da spennare come fanno molte major che ti dico che cantare cosa dire per creare generazioni di poveri innocenti costretti ad ascoltare i vostri inutili tormenti siete solamente voi che generate i deficienti potenti solamente per aver ucciso un passato un presente e far lo stesso ad un futuro ancora più crudo comandato da violenza indifferenza e non curanza per le cose basilari non esistono più ideali per cercare di essere veri dietro a tutti questi veli mascherati da un controllo che ci tiene appesi per il collo ed è per questo è solo il mio maggior motivo che voglio sentirmi sempre più vivo senza controllo e un po furtivo sono fuori controllo perché ho mangiato troppo pollo e i testimoni preferisco tenerli belli stretti tra le mani invece di farli girare tra le fauci che addomesticati i cani sono fuori controllo perché per non pagare il pollo ho venduto pure l'auto e sono riuscito a riprendermi del fiato che nuovamente ho utilizzato per tornare più affiatato e sempre meno controllato sono il pieno controllo di me stesso e non avrete mai il mio collo né per soldi né per sesso sono fuori controllo dai piedi a sopra il collo sono fuori controllo perché mangio bevo fumo e ballo sono fuori controllo perché ho deciso di essere libero e bello di fare ciò che voglio guarda che sballo sono ancora proprio fuori controllo fuori controllo fuori controllo venite tutti senza controllo grazie ragazzi ragazzi se vi è piaciuto seguitemi sul mio canale Abacor siate tutti benvenuti ah no no aspetta adesso io chiedo subito al parere in diretta perché c'è una signora prego sì per cortesia si alzi è già alzata che bastardo venga 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 perché così la prendiamo in castagna venga cosa ne ne pare no e cosa ne pare dei tre pezzi quali dei tre eh l'ultimo fuori controllo l'ultimo perché c'era la parolaccia amica peraltro allora grazie per ora poi magari più tardi ha detto che vuol fare l'oredana per te volentieri eh quindi facciamo fare l'oredana allora adesso passiamo alla parte che è la parte gara cosa c'è in pre tu non mi hai detto che cosa c'è in è una sorpresa è una sorpresa eh sì è una sorpresa ma il presentatore almeno quello lo deve sapere la sorpresa cioè io non so chi partecipa non so chi gareggia però non so neanche chi vince per fortuna perché nei concorsi sai concorsi quelli delle miss sanno già chi vince ti trucca invece volevo sentire Patti infatti tu che sei in giuria tra le tre canzoni quale secondo te può essere più radiofonica secondo me è la prima grazie devo per te bellissima mi è piaciuta fare bella melodiosa comunque una bella bella canzone grazie 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 alla Patti che è arrivato un altro giurato benvenuto sempre in orario i giurati mi fa piacere perché quando arrivano in orario succede succede lui è? lui è Diego è un DJ produttore ciao DJ produttore come stai? benvenuto hanno sempre da fare il DJ va bene allora intanto sei arrivato giusto in tempo perché la gara inizia adesso in terms Lahiri come stai ci aspetta ci aspetta ciao 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 Grazie a tutti.